Eccola l'ultima orsa, questo è Guglielmi, questo è Cezosimo, Nando, se no lo sbaglio 50 volte questo nome, Giannetti, Sunto, ciao ragazzi, ecco la passione di Abin, questo invece è Cezosimo, con Simonella, la valla di Siri. Allora, microfono a posto, quindi eravamo arrivati al numero 5, laurezza mia, il santino è Andrea Pogli. Un piccolo sogno sta passando, eccolo, il Carrus, eccolo Sunto. Questo invece è Cogli, ancora Cezosimo, che è montavoletta mia, la valla, qualche problemino al canna, le gambe le sa muovere, vince le corse. Bene, eccola la, lauretta mia, queste urpe sottonde, grosso errore. Bene, la tireranno il cannape. Tutto è pronto, il cannape tirato. Ultimo giro. Alla ruota. Eccola, Sogliapin, Pacini, Chebexauro, Guglielmi, Sunto, Giannetti, Simonella, Gersosimo, Nando, lauretta mia, Andrea Pogli. Ecco lì, ecco lì, ecco lì, ecco lì, no, l'annullata, l'annullata, c'è un attimo di ritardo. Quando è la Sonia B, va lasciando andare un giro per vederla. Bene! Bexauro, si riparte, bisogna B, Bexauro, ascolto Giannetti, Simonella, Nando, Loretta mia, Andrea Hoge, Bexauro, Sunto, Giannetti al terzo posto, quindi Celsosimo, piccolo sogno, un carross di ricorsa, andiamo, eccoli, 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 oppa, la via Giannetti, Consunto, cogo la letta mia, quindi di dentro, Guglielmi con Bexauro, non ce l'ha fatta, coge, prova, di fuori, attacca Assunto, che se ora allarga lui, passa a Bexauro dentro, come voleva si dimostra, eccoli va, ancora Sunto, con Giannetti, ci prova Loretta mia, con coge, ancora Guglielmi di dentro, sempre Sunto avanti Giannetti, un cagnaccio, bravo Giannetti, e sono più distanziati, gli altri, con ancora prima posizione, Alessio Giannetti, un punto, lauretta mia, saltatata, e geldi, vediamo adesso, e per Saura, sta andando bene anche lui, provate a staccarlo all'interno, Andrea Coge, non ci riesce, ancora, la prima posizione, sempre avanti Giannetti, un sunto, e vincerà gianetti è tutto bene vince tutto secondo lauretta mia e terzo che bexauro ha vinto una bella corsa è sotto e gianetti è bravo e ha vinto la bella corsa già sotto e gianetti battere la voletta mia non era proprio una cosa semplicissima però gianetti e gianetti sapete che a me piace gianetti ma no perché perché bravo si può la fa ragazzo da carattere e capacità abbiamo visto ecco bene finita questa serata secondo e terzo che bexauro ci ha provato guglielli ma non c'è stava nulla a fare gli altri andavano più forte bene è finita questa serata l'ultima corsa del protocollo vino del 2016 passiamo ora alle ultime due di monticiano e poi parola previsita e tratta prove di notte grazie alla prossima arrivederci